Siamo molto orgogliosi di poter annoverare un gruppo importante come la Team System nella nostra famiglia. Consideriamo tutti gli sponsor, i consorziati una famiglia perché rappresentano la spina dorsale, il fulcro di tutto il nostro club senza di quale non potremo andare avanti. Siamo molto contenti e per questo speriamo anche che il loro impegno si concretizzi anche negli anni successivi con un maggior impegno all'interno del club. Sarà nostro secondo sponsor e abbiamo quindi concluso tutta una trattativa e già da questo campionato saranno presenti nella maglia. Team System è un'azienda tra le prime, se non la prima a livello nazionale nel settore del digitale. Ha oltre 4.000 dipendenti, a Pesaro ne ha, credo, più di 500. Quindi è un'azienda di notevole prestigio. L'azienda è stata presente nelle maglie della VL dal 2012 al 2015-16. Si sono create le condizioni, considerando che i dirigenti hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto con la nostra città, per un loro inserimento nella maglia. Loro hanno colto l'occasione, sono stati contenti e noi siamo ancora più contenti perché è davvero una partnership interessante per tutti. Io c'ero, c'ero nel 2013 e poi Team System è stata accanto alla VL anche qualche anno prima, che vuol dire che sto invecchiando anch'io, ma un po' di anni sono passati, ma sono anni in cui siamo sempre stati vicino alla città e anche alla squadra. E devo dire che in questi anni Team System è cambiata tanto perché a quei tempi era una piccola impresa, oggi è un'impresa di quasi 5.000 persone, con una diffusione sul territorio molto ampia in Italia e in Europa. Quello che conta è che però a Pesaro c'è ancora il cuore pulsante dell'azienda, insomma una delle aree più importanti, soprattutto dal punto di vista della tecnologia. Qui c'è il nostro più importante hub tecnologico con oltre 500 persone nella sede di Pesaro e che comunque poi comprende anche tutta l'area, tutta la zona. Quindi Pesaro è molto importante per Team System e devo dire il basket, sappiamo molto bene, è importante per Pesaro. Quindi questo matrimonio era prima o poi sicuramente molto bello farlo. Ci siamo riusciti finalmente per quella che è una nuova fase che vogliamo costruire insieme, insieme alla società.